buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial della biblioteca di brugherio in questo video tutorial vi mostriamo il menu biblioteche di biblioclique e in particolare la pagina di brugherio su questa pagina trovate una serie di informazioni i contatti della biblioteca e la mappa per arrivarci il link al nostro sito web alla email alla nostra pagina facebook e al canale youtube vedete anche l'orario della giornata e cliccando su questo link potete aprire l'orario completo qui avete una casella di ricerca che cerca soltanto nei titoli disponibili a brugherio e qui una serie di informazioni innanzitutto l'invito a visitare le nostre pagine web sul sito della città di brugherio dove trovate davvero tutto quello che riguarda la biblioteca le informazioni di servizi la descrizione delle collezioni tutte le proposte di lettura di percorsi di visione ascolto navigazione web informazioni sulla storia locale e molto altro poi c'è lo spazio per un avviso in questo caso l'avviso di chiusura del prossimo lunedì 14 agosto e qui avete in evidenza l'ultimo percorso di lettura che abbiamo creato i percorsi di lettura creati dalla nostra biblioteca con la nuova versione di biblioclick li trovate anche su questa pagina e ovviamente saranno sempre di più con l'andare del tempo questo sul louvre è l'ultimo e poi a scendere quelli più vecchi invece i vecchi percorsi di lettura che c'erano sulla vecchia versione di biblioclick li trovate comunque sul sul sito web comunale nelle pagine della biblioteca in questa pagina delle bibliografie a seguire avete gli ultimi eventi qui a brugherio che ritrovate qui e che se come vi abbiamo indicato nel video precedente vi siete iscritti alla newsletter ricevete anche via email settimanalmente e poi una serie di vetrine delle novità tutti i titoli tutti gli ultimi acquisti e catalogati gli ultimi acquisti e catalogati per ragazzi fumetti e manga i video quindi sia film che documentari i giochi da tavolo i libri game e poi gli nuovi ebook commerciali e audiolibri digitali che provengono da mlol un ultimo sguardo a questa scheda che vi ripropone i video tutorial che ci sono anche su youtube per usare biblioclick mlol un ultima annotazione finale che riguarda queste tre voci qui avete il link che rimanda al nostro portale mlol di cui abbiamo già parlato per qualunque informazione esigenza potete utilizzare il servizio chiedilo a noi compilando il modulo che trovate a questa pagina e qui avete il link al sito del sistema bibliotecario nord est milano con tutti i documenti i verbali la possibilità ancora di iscrivervi alla newsletter e tutte le informazioni che riguardano il sistema bibliotecario vi diamo appuntamento al prossimo video per parlare della community di biblioclick grazie a tutti